Siamo già entrati nella terza guerra mondiale, se stai guardando questo video probabilmente sei a casa o comunque stai bere, quindi no, non siamo ancora entrati nella terza guerra mondiale, ma ci siamo veramente molto vicini e di questo purtroppo non sono felice. Recentemente Trump in un discorso per farsi rieleggere ha detto che l'America è molto vicina alla terza guerra mondiale. Come vostro presidente ripristinerò la pace attraverso la forza, e sì, eviterò la terza guerra mondiale, siamo molto vicini alla terza guerra mondiale e la eviteremo. Conosco i giocatori, conosco i buoni, i cattivi e i deboli. E leggevo un articolo di Ray Dalio chiamato Un altro passo verso la guerra internazionale. Ciò che è accaduto e sta accadendo tra Israele e Hamas, come ciò che è accaduto e sta accadendo tra Ucraina e Russia, dovrebbe suscitare repulsione e paura in tutti. Nessuno da nessuna parte può essere sicuro di non trovarsi un giorno in una guerra orribile. E mentre Israele, Hamas, l'Ucraina e la Russia sono in guerra, fortunatamente gli Stati Uniti e la Cina, le più grandi potenze mondiali, non lo sono, anche se restano sull'orlo di una crisi. Io non credo nessuno voglia vivere una guerra, la pace è magnifica, stare bene, con i propri cari, essere felici. Ray Dalio dice, a mio avviso questa guerra ha un alto rischio di sfociare in numerosi altri conflitti di diverso tipo in vari luoghi e probabilmente avrà effetti dannosi che si estenderanno oltre a quelli di Israele e Gaza. Oltre a questo, cosa sempre più brutta, mi sembra che le probabilità di passare dai conflitti circoscritti a una guerra mondiale che coinvolga le maggiori potenze siano aumentate da circa il 35% a circa il 50% negli ultimi due anni. La situazione è allarmante e io confido che non succeda nulla di brutto, perché con tutte le armi nucleari addirittura che ci sono in giro, molte persone potrebbero soffrire o perdere chi amano. Quasi sempre ciò che porta alla guerra sono i soldi, qualcosa che è stato creato dall'uomo, qualcosa che è diventato forse essenziale se non necessario per vivere e sopravvivere, almeno nel nostro mondo. Ray Dalio spiega che ci sono 5 grandi forze che interagiscono sempre e che ora ci stanno forse portando ad una guerra. La forza del debito, del denaro e dell'economia, soprattutto la dinamica che si verifica quando ci sono alti livelli di debito e alti tassi di crescita del debito. I conflitti politici all'interno dei paesi a causa di grandi divari di ricchezza e di valori, che stanno portando a guerre civili emergenti tra estremisti di destra e di sinistra. Conflitti geopolitici tra paesi, dovuti ai grandi cambiamenti in chi detiene ricchezza e potere e a come dividere questa ricchezza e potere. Gli atti di forza della natura, soprattutto ossicità, inondazioni e pandemie, in questo momento dovuto principalmente al cambiamento climatico. La forza dell'inventiva dell'umanità, soprattutto nell'inventare nuove tecnologie. E al momento la tecnologia più grande e innovativa è l'intelligenza artificiale. E purtroppo, sempre secondo Ray Dalio, con un'esperienza di oltre 50 anni di scommesse su ciò che potrebbe accadere in futuro, sembra proprio che la guerra tra Israele e Hamas sia un altro classico. Uno sfortunato passo verso una guerra internazionale più violenta e più ampia. Ho trovato questa intervista di più di dieci anni fa di Warren Buffett, in cui gli veniva chiesto cosa faresti se ci fosse una terza guerra mondiale. E sappiamo che lui è l'investitore più grande di tutti i tempi. E visto che la situazione mi sembra più che attuale, sentiamo le sue parole. Quando la gente comincia a pensare che questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di veramente brutto, che potrebbe essere addirittura una terza guerra mondiale, le passa mai per la testa qualcosa di simile? Assolutamente sì. Se mi dite che tutto questo sta per accadere, continuerò a comprare le azioni. L'unica cosa di cui si può essere certi è che entreremo in una guerra molto importante. Il valore del denaro scenderebbe. È successo praticamente in tutte le guerre di cui sono a conoscenza. Quindi l'ultima cosa da fare è detenere denaro durante una guerra. L'ultima cosa che vorresti tenere durante una guerra sono i soldi. Se il tuo paese è in guerra, il valore della tua valuta scende notevolmente. Magari non potrai neanche entrare o uscire dal tuo paese. Infatti, una cosa che fanno diversi ricchi e, avendo amici o conoscenti molti milionari, ne sento parlare spesso e a volte me lo consigliano anche, non che io sia a quei livelli. Però si tratta di avere più passaporti e cittadinanze. Diversi paesi, infatti, se sei ricco, ti permettono di comprare case, comprare terreni e, di conseguenza, ottenere di diritto la cittadinanza. Gli investimenti sono consistenti, superiori ai 500.000 euro, spesso e volentieri. Ed esiste anche qui a Dubai. C'è una cosa chiamata Golden Visa. Ma per capire come si svolgono queste fasi prebelliche, possiamo studiare qualcosa che forse a tutti noi è noto, come la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Però Reidalio ci consiglia di studiare i periodi prebellici dei due anni precedenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, sia in Europa, sia in Asia. Purtroppo quello che sta accadendo ora gli assomiglia molto. In tempi di guerra, oro, argento, gioielli, arte, vengono usati come riserva di valore. Quindi se sappiamo che il denaro non vale niente o tende a scendere notevolmente e queste cose possono mantenere il loro valore se non addirittura aumentare, alcune persone comprano oro, argento o simili per proteggersi. Ad oggi abbiamo anche qualcosa di nuovo, digitale, ovvero Bitcoin, che viene visto come riserva di valore. Sono limitati a 21 milioni e in certe parti del mondo viene anche utilizzato come valuta di commercio. Non sono l'unico a chiamare Bitcoin l'oro digitale. Abbiamo diversi miliardari a bordo di questa visione o vedi lo stesso CEO di BlackRock? E forse il prezzo di Bitcoin ad oggi sta aumentando anche per questa situazione relativa a una tensione di guerra e non solo alla speculazione di un possibile Bitcoin spot ETF. Inoltre, essere alleati e aiutare i paesi alleati in guerra è sempre molto costoso e aumenta il rischio di essere coinvolti a pieno nella guerra. Ed è così che le guerre locali si trasformano in guerre mondiali. E lo sapevi che esistono anche alcune aziende che fanno soldi in periodi di guerra. Alcune di queste aziende sono Shell, Lockheed Martin, Chevron, BP ed ExxonMobil. Esistono però anche alcune aziende di produzione che possono fare soldi o beneficiare da periodi di guerra. Perché semplicemente basta cambiare la loro linea di produzione relativa poi alla guerra. Volkswagen può produrre carro armati, Hugo Boss vestiti per l'esercito. Quindi per fare soldi durante periodi di guerra basta seguire il denaro. Poniamoci sempre la domanda a che cosa serve, chi finanzia. Moltissime persone però a livello etico, e sono d'accordo, non vogliono finanziare queste aziende o supportarle. E sappiamo sempre che dopo un periodo di guerra c'è sempre un periodo di ricostruzione. E tante aziende possono ripartire più velocemente di prima. Spesso dovuto a finanziamenti o incentivi post-crisi. Ma tornando all'articolo di Reidalio, che cosa si può fare per migliorare le cose? Secondo lui servirebbe un forte leader bipartisan, che emerga per diventare presidente. Per capirci, un leader apprezzato o seguito da persone di tendenze politiche opposte. Purtroppo secondo lui è impossibile. E l'obiettivo più raggiungibile sarebbe che gli Stati Uniti e la Cina mediassero congiuntamente la pace in Ucraina. Anche se si tratta di un obiettivo ambizioso, potrebbe essere raggiungibile. Immaginate se le due principali e opposte potenze mondiali si coalizzassero per la pace. Rispetto a schierarsi per una possibile guerra mondiale. Io sono Michael Pino, sono contro la guerra e pro alla pace. Spero che anche tu la pensi allo stesso modo e in caso fammi sapere con un like. Vorrei che tutto questo si risolvesse per il meglio e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!